Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e oggi è cominciato il tanto atteso quinto livello delle spedizioni in beta le prime notizie che arrivano si dicono che è abbastanza difficile, non sarà alla portata di tutti vedremo, speriamo che ci sia qualcosa di interessante e divertente diciamo pure che Inno Game ci sta mettendo un po' sotto sforzo questi giorni San Patrizio ci richiede molto tempo, partite il quinto livello delle spedizioni domani partirà l'evento Natura Selvaggia, insomma la situazione è abbastanza impegnativa vi dico pure che ho problemi col pc, si è verificato più volte e ultimamente di nuovo quindi speriamo di riuscire a portare a termine questo video se scompaio sapete che dipende dal mio pc Allora andiamo subito sul gioco, ecco qui siamo sul server beta vedete qui già parla dell'evento Natura Selvaggia ma di questo faremo un altro video possibilmente intanto andiamo qui invece sul quinto livello delle spedizioni leggiamo brevemente sul forum che cosa ci dice allora intanto ecco il problema principale, ormai abbastanza noto in giro anche perché era stato anticipato da un video di Inno Games è che non servirà più l'attacco ma la difesa cioè nelle battaglie verrà considerato il bonus dell'esercito difensivo purtroppo noi abbiamo tutti smontato un po' l'esercito difensivo io ho levato Dicastro, ho levato San Basilio, ho levato Faretti le fiamme, non ricordo come si chiamano, quei due per uno che ci danno difesa quindi ho diminuito moltissimo in tutti i mondi la difesa e come me molti altri, i nuovi giocatori spesso non l'hanno proprio considerata non l'hanno proprio messa e adesso invece ci serve per il quinto livello delle spedizioni vedremo si può comunque negoziare eventualmente anche se sembra che siano negoziazioni molto difficili vediamo le novità intanto queste fortificazioni sono degli edifici che possiamo mettere che ci possono aiutare nelle spedizioni un po' come quelli che mettiamo nei campi con la differenza che questi sono individuali e non di gilda quindi ecco edifici che vedete questo aumenta l'attacco dell'esercito difensivo aumenta la difesa aumenta sia l'attacco che la difesa infiltra l'esercito nemico riduce i costi di negoziazione riduce di uno le possibili opzioni di negoziazione quindi vediamo quanto costeranno costeranno dei beni della propria era vedremo se varrà la pena metterli e si vinceranno dei premi nuovi c'è questo edificio interessante perché ci dà attacco e difesa sia per l'attacco che per la difesa punti forgi però ha la caratteristica che dura 28 giorni e dopo 28 giorni se ne può mettere un altro e sembra che almeno qui tu dici che se uno fa sistematicamente le spedizioni del quinto livello dovrebbe riuscire ad avere sempre questo edificio poi un altro edificio che si può vincere se non sbaglio si vince a pezzettini, a frammenti ormai i frammenti sono diventati un'abitudine ecco un edificio, questo dragone con questi vari pezzi di coda ognuno con caratteristiche diverse questo va nella città principale non dura 28 giorni questi sono altri edifici nuovi la nuova grande fiamma rituale il tempio del sacro del cielo o qualcosa del genere che in realtà non sono il nuovo livello dei vecchi che non possono essere upgradati ma sono proprio edifici nuovi e ci danno sempre attacco e difesa per il servizio per esercire attacco e questo per esercire la difesa abbiamo questi avatar numerosi abbastanza carini, interessanti e questi nuovi trofei ci saranno poi, ma non subito probabilmente la settimana prossima dei cambiamenti anche nei livelli 1-4 con dei premi, dei kit di selezione aggiuntivi dei premi che verranno dati insomma vedremo adesso non entriamo troppo nel dettaglio e a questo punto andiamo subito sul gioco allora io ho finito i 4 livelli consumando medagli adesso proviamo a entrare sul quinto ecco le spedizioni mettiamo tutto a schermo allora la prima cosa vedete ecco il quinto livello e sblocchiamolo costa parecchi beni vedete io sono l'unico gildano nell'era di giove per un solo gildano vuole 192 beni a era quindi insomma è abbastanza più sostanzioso dei livelli precedenti ok abbiamo sbloccato il livello entriamo nella mappa ecco la mappa è questa giungla beh di queste cose già ne abbiamo parlato leggendo nel forum ecco diciamo la prima cosa che si presenta molto carina molto vivace tutto il tema ricorda l'insediamento degli Astechi e cominciamo a vedere io adesso ho un solo tentativo ho 36 milioni di medaglie ma già ne ho consumati parecchi tentativi per arrivare qui per arrivare qui quindi ho comprati parecchi quindi insomma per andare avanti dovrei consumare veramente molte medaglie vediamo perché non è neanche detto che riusciamo ad andare avanti allora intanto vediamo che è la soglia struttura uno, due, tre e il quattro è una battaglia più grossa una situazione più grossa vediamo subito i premi qui ci dà 10 frammenti della fiamma rituale grande qui 5 frammenti del tempio sacro del cielo come si chiama qui 5 frammenti del serpente famoso e qui 5 frammenti del tempio quel famoso tempio che dura che dura 28 giorni ok allora entriamo subito con il primo tentativo qui abbiamo ah vedete rispetto alle due possibilità che abbiamo in genere battaglia o negoziazione abbiamo anche la possibilità di costruire edifici vediamo subito qual è la situazione allora quanto ci chiede nelle battaglie facciamo le prove se andiamo qui in difesa per l'incontro c'è almeno uno slot vuoto sei sicuro che vuoi continuare beh io vorrei continuare per penso che posso uscire poi volevo solo vedere il bonus ecco 4 e 49 meno segno magari che poi potrà servirci incontro 1 4 e 49 però ecco io qui ho l'esercito difensivo quindi è un bonus molto molto basso vedete 178 e 3 e 48 non lo so potrebbe anche darsi che lo vinco usciamo ritentiamo ecco mi permette di tornare da capo vediamo la negoziazione che cosa mi dice mi dice ancora qui sei sicuro che puoi continuare e continuiamo vediamo la negoziazione che cosa mi chiede sono 3 e 5 sono 10 beni per 10 10 beni me lo appunto per quantità 10 beni insomma è abbastanza difficile come negoziazione e chiudiamo di nuovo e torniamo andiamo a vedere gli edifici allora qui abbiamo gli edifici allora abbiamo un solo slot intanto possiamo mettere questo qui ma ci chiede non è che ci chieda molti beni questi qui in realtà questo ci dà un 50% di attacco per la difesa questo ci dà la difesa beh al momento di beni ne chiede pochi insomma dicevano che ne chiedesse molti allora vediamo vediamo qual è che ci conviene mettere e allora abbiamo detto che io ho poco poco in difesa ho poco soprattutto poco attacco quindi questo ci dà l'attacco in difesa e va bene questo ci dà la difesa questo qui riduce il numero di risorse scelte nelle negoziazioni ma io finché vado altri vado a combattere ah non ho altri edifici forse gli edifici quindi cambiano secondo a che livello siamo beh io allora metto quello che mi dà l'incremento un 80% in difesa e vediamo che cosa succede tanto un bene 29 ne ho molti di beni no questa è la difesa scusate ho sbagliato questo qui l'attacco in difesa ok costruiamo l'edificio eccolo qui e andiamo alla prima battaglia ok vedete questo è l'esercito non è in realtà il mio esercito difensivo qui io metto l'esercito difensivo in questo momento ho solo un fuffante però posso scegliere che cosa però mi dà il bonus della difesa allora abbiamo detto qui abbiamo 4 e 49 qui mi ha aumentato ho molto meno delle app però facendo magari una battaglia manuale dovrei riuscire anche a due ondate la battaglia vediamo che cosa posso mettere ma in realtà io metto tutti metto tutti i grantieri facciamo una battaglia manuale vediamo che succede forse ho disposto sbagliati le unità militari queste mi uccidono subito è che sono abituato io a combattere con 2000 di attacco e difesa qui combattere con queste unità è davvero poco niente ho finito perso la battaglia ok quindi qui si perderanno anche per fare le prove si perdono i tentativi adesso per esempio intanto già devo comprare un tentativo comprare un tentativo ok vedete già mi costa molto compriamolo poi se i tentativi fanno vuoto diventa un problema e vediamo qui posso cancellare questo e costruire un altro eventualmente se decidessi di negoziare però in realtà anche negoziare è abbastanza difficile riduce le risorse richieste nella negoziazione di uno il numero di risorse quindi il numero di opzioni penso ma visto che finché abbiamo questo edificio voglio provare a fare un'altra battaglia un'altra battaglia proviamo a mettere torniamo alla città e mettiamo un po' di boost difensivo allora non lo mettiamo da qui qui ce lo riserviamo vediamo se funziona il famoso turno in più che valeva per gli altri livelli magari qui mettiamo un po' di boccette boccette difensive ecco fino a 141 da 30 proviamo a metterne però questo è solo difesa in difesa non è attacco in difesa è quello di cui avrai bisogno comunque mettiamone qualcuna 1 2 3 vediamo se con 3 boccette ci ha aumentato un pochino andiamo allora in difesa proviamo a mettere ma proviamo a mettere gli alianti abissali anche perché gli alianti abissali vanno bene contro l'artiglieria qui non possono essere colpite dall'artiglieria proviamo sempre a farlo manualmente allora e attacchiamo prima i granatieri vedete che anche se è l'esercito difensivo però parto prima io questo è interessante o forse parto prima io perché partono prima gli alianti abissali allontaniamoci così ecco c'è rimasto questo me l'ero perso troppo lontano l'ho messo non si vede bene dove posso avvicinare allora non va ormai eh non ce la facciamo neanche questa volta dovremmo comprare un altro tentativo a questo punto non vale la pena spendere tante medaglie qualcuno lo compriamo adesso per fare il video ma poi converrà ad aspettare facciamo la prova con la negoziazione allora dobbiamo comprare 230.000 medaglie cominciano a costare parecchio ogni volta aumentano al 20% torniamo agli edifici vediamo se ci fa levare questo e mettere un altro edificio quindi questo possiamo mettere quello della negoziazione riduce il numero dunque abbiamo detto prima che ci dà 10 beni di 10 tipi ah no qui non me lo fa costruire perché distruggiamo e mettiamo questo ok andiamo adesso alla negoziazione vedete invece che 10 beni per 10 tipi mi dà 9 beni per 10 cioè 10 beni ma per 9 tipi invece che per 10 ho 3 turni andiamo a vedere se funziona il famoso turno in più che compriamo compriamo con la taverna allora dove stava è tanto tempo che non lo mettevo ecco il turno in più mettiamolo per un'ora così abbiamo tutto il tempo si a questo qui ok torniamo adesso alle negoziazioni no qui sono finito nei campi torniamo qui ok negoziamo e infatti sono 4 tentativi quindi certo 4 tentativi comunque con 9 sono comunque tanti non è per niente facile adesso mettiamo questi del secondo gruppo e questi due sono sicuri qui rimangono questo questo solo qua lo posso mettere e qui questo sicuramente dovrebbe essere giusta così ok ok e abbiamo vinto con fatica il primo frammento 10 frammenti andiamo a vedere quanti ce ne servono perché sinceramente non lo so no non sono qui ci sono ancora quelli della difesa vediamo qui 10 frammenti su 100 questa è la grande fiamma rituale che è un 2 per 1 ci da un 7 per cento di attacco mentre invece la fiamma rituale normale quanto ci da non so neanche se ce l'ho ancora cerchiamo qui dentro la fiamma rituale normale ah come ci da l'8 ah ma questo ci da attacco però questo ci da no 7 per cento di difesa e questo ci da l'8 per cento di difesa allora è meglio quella normale com'è questa cosa 2 per 1 7 per cento ah ci da sia difesa che attacco mentre questa ci da l'8 ma ci da solo difesa ecco qual è la differenza sì si è difesa e si attacco non si vede molto bene il simbolino ma è così invece la fiamma rituale a livello 2 ci da il 12 ma solo difesa insomma non è che sia voi così migliore dell'altra questa questa grande fiamma rituale ok torniamo alle espansioni alle espansioni alle spedizioni vediamo compriamo un altro tentativo 280 mila non andiamo molto avanti perché costano troppo poi se continuo a sbagliare vediamo qui gli edifici che cosa posso fare qui è come prima attacco difesa e ah qui riduce di 2 però beh meglio mettiamo questo beh i beni almeno di questi primi costano davvero pochi i beni richiesti per mettere questi edifici ok ok continua e andiamo a negoziare 1 2 3 ma non me l'ha non me l'ha diminuito scusate non dove sono 3 sono 10 non ho l'edificio io qui dentro che ho fatto che cosa mi fa ah riduce i costi di negoziazione di 2 non il numero eh quindi insomma me ne faccio poco probabilmente questo era da 12 invece ah vediamo quant'è il bonus dell'esercito qui se uno decidesse di combattere 4 e 68 eh non sono di per sé molto alti però bisognerebbe riorientare tutta la città alla difesa ok andiamo a negoziare proviamo a negoziare ok sono rimasti 3 sono andato bene qui 1 2 no qui non posso mettere questo qui metto questo e quindi qui metto quest'altro 1 2 3 ancora un altro tentativo ok basta invertirli a questo punto abbiamo fatto ok quello era il trasportatore ok il trasportatore 6 frammenti del non mi ricordo come si chiama questo in italiano la difesa del cielo sacro la larra del cielo sacro non mi ricordo ok e insomma ne abbiamo fatti fatti due andiamo ancora avanti compriamo un altro tentativo vediamo qui che edifici ci abbiamo allora attacco e difesa questo mi da solo attacco questo solo difesa e questo di nuovo mi diminuisce di 2 ma andiamo avanti con le negoziazioni perché mi sembra che è l'unico modo in cui si va avanti certo le negoziazioni da 10 sono sono veramente tante il turno in più della taverna ricordatevelo perché è veramente importante vedete neanche sono riuscito ancora a metterli tutti per vedere quali possono essere ecco adesso dovrei averli messi tutti ok allora questo deve uscire ancora questo è uscito e questo deve uscire quindi sono sicuramente questi due quindi le alghe rosse vanno qui e il dna viene qui penso che è l'unico è andare avanti con le negoziazioni in effetti o si decide di rafforzare l'esercito militare difensivo frammenti del famoso serpente andiamo a vedere questi frammenti del famoso serpente eccolo qua servono 200 frammenti ne ho 5 e va bene qui poi si vedono 1 2 ma non mi fa fra un serpente e una statua ah e qui c'è l'aggiornamento anche l'aggiornamento dello stesso serpente ah non avevo capito perché a sua volta questo serpente può essere upgradato ma questi edifici poi ce li studieremo con calma e torniamo alle negoziazioni alle spedizioni vediamo l'evento difficile compriamo ancora un tentativo 400.000 medaglie vediamo qui che cosa abbiamo allora qui abbiamo ecco abbiamo due slot abbiamo più edifici andiamo avanti con le negoziazioni perché abbiamo capito che con le battaglie non si va e quindi questo non ho capito infiltrare che cosa succede se si infiltra l'esercito nemico a meno uno probabilmente a meno uno non facciamo niente sarà forse un quadratino rosso in meno e vediamo quelli per le negoziazioni però per le negoziazioni abbiamo soltanto questo ma allora questo per la negoziazione lo mettiamo visto che abbiamo un altro slot mettiamo anche questo soltanto per andare a vedere bene che cosa succede ok allora entriamo un attimo in quello militare eh vedete hanno già un quadratino questo infiltrare significa levare un quadratino ah beh come nelle nei campi nella mappa continente quando si infiltra si leva un quadratino qui abbiamo 507 all'incontro grosso me lo segno e però a questo punto noi andiamo a negoziare qui abbiamo ah qui sono molti di più perché vogliono 10 ben diversi per 38 di ognuno comincia a essere molto più sostanziale 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 e 5 sopra siamo andati bene io me ne ho esclusi 4 ma in effetti sono rimasti pochi beni davvero pochi beni potremmo anche superarla questa negoziazione si ha solo 3 beni quindi uno lo devo ripetere due volte ho ripetuto quello di cui ne avevo di più ok sono rimasti solo questi due basta che li inverto insomma direi che il turno in più ci aiuta molto in realtà vedete che senza diamanti sono riuscito già ad arrivare qui ok al primo incontro grande chiudiamo il premio 5 frammenti del tempo tempio dimenticato ok qui ho una reliquia intanto la fiamma rituale quella di tipo antico dovrei avere un'altra ma chissà dove sta andiamo ancora avanti compriamo un altro tentativo l'ultimo perché cominciano davvero a costare troppi tanto è troppo tanto ormai il sistema l'abbiamo capito difesa qui che cosa possiamo mettere andiamo sempre sulle negoziazioni uno in meno ecco qua il numero di risorse questo è migliore ok quindi di fatto si possono mettere con facilità perché non costano tanto questi edifici ok andiamo sulla negoziazione qui mi bastano gli slot per mettere uno di ogni tipo ne rimangono quattro questi sono solo tre quattro con questo qui proviamo a mettere anche questo quindi mettiamo tutte le possibilità due tentativi ancora ah qui è sicuramente questo qui è sicuramente questo quindi questo è messo questo è messo rimangono le alghe mettiamola in tutte e due insomma questo è l'ultimo tentativo ah ce l'abbiamo fatta bene vediamo qua qui mi da il doppio premio ho l'avatar 10% dell'avatar e il 90% dei frammenti e ho preso i frammenti ok ma vediamo quali sono i premi successivi ah qui comincia a dare o frammenti o avatar o frammenti o avatar ma facciamolo un altro voglio prendere un avatar 587.000 comincia davvero a essere caro edifici mettiamo sempre quelli qui c'è un solo slot mettiamo quello per la negoziazione negoziamo fra l'altro avendo comprato un'ora di turno in più può valere la pena farne più possibile ok qui mettiamo questi del secondo turno e probabilmente bisognerà bisognerà negoziare o negoziare o ristrutturare tutta la città e mettere la difesa in attacco due sono le possibilità mettiamo quello di cui ne ho di più questo qui ma non ne ho messo uno qui non ho messo questo vedete ho sbagliato qui mettiamo questo mettiamo questo qui mettiamo questo e qui quale manca questo lo mettiamo qui e qui mettiamo questo ecco qui non ce l'abbiamo fatto 10 diamanti ce li spendiamo non si sa se si vincono diamanti in questo per ora non ne abbiamo vinti in questo quinto livello delle spedizioni sarebbe interessante saperlo ok ok vediamo che cosa prendiamo niente frammenti niente avatar e penso che possiamo fermarci qui andare avanti mi costerebbe troppo medaglie e comunque sostanzialmente si è capito come funziona allora direi che o si negozia o si mette si ristruttura tutta la città e si mette la difesa in difesa e attacco in difesa e questi edifici non costano tanto quindi metterli sistematicamente chiaramente se si negozia si mettono quelli per la negoziazione se si attacca quelli per l'attacco per la difesa in realtà quindi dare prevalenza in generale all'attacco in difesa che è quello che normalmente manca poi ognuno secondo la situazione del suo eserciro difensivo metterà la cosa migliore e ricordarsi soprattutto di mettere il turno in più perché è quello che se si negozia ci fa risparmiare un diamanti sostanzialmente può essere può essere buono e vi saluto ciao a tutti e alla prossima buon game